Scusa, scusate un po' da uno strappello Dai a monta Corri va, verso la... Ma andiamo, devi chiedere Allora spinta Ciao Ma che sei matto, oddio Vada, c'è il cd va piuttato Cosa? Va piuttato il cd Sex Pistols Che musica fa? Che musica fa? Mi hai chiesto che musica fanno i Sex Pistols? Loro non fanno la musica, loro so la musica E allora tu conosci la sinfonia concertante per violino e viola K360? No, a 364 di Mozart No, a 364 no, però K-Come E poi nasce tutta una cosa che te sfumano Ciao Ciao